Io sono sempre il vostro Gabri Costa, ascoltatemi bene attentamente. Visto che noi siamo qui a Hell's Kitchen, noi dobbiamo fare l'ultima proprietà di Amered, l'ultima base nemica. Dobbiamo sconfiggere 5 nemici usando oggetti strattonati e una combo di 85 colpi. Quindi, questo videogioco della PS4 che sto facendo si chiama Marvel Spider-Man, capite? È un videogioco del 2018 pieno di azione. E volevo dirvi che questo è il contenuto aggiuntivo di LC, la città che non dorme mai, con il secondo episodio Territori Contesi. Io vi dico che ci saranno gli ultimi sgherri di Amered da sistemare e da eliminare. Come sempre dobbiamo fare 6 ondate. Le 6 ondate vanno completate tutte. Dopo che avremo sconfitto tutti gli sgherri di Amered, finiranno tutti in prigione. Saranno tutti in galera. Lo sapete tutti che io non sopporto i criminali, quando fanno qualcosa di male, di azioni cattive. Bene, la prima ondata è terminata. Ora facciamo la seconda ondata. Ricordatevi che questo posto si chiama Hell's Kitchen e quando dico Hell's Kitchen ci ricordiamo Dark Devil. Io faccio sul serio. Ora arrivano questi o le fruste che mi danno sui nervi, mi fanno innervosire. Non dimenticate che questa è l'ultima proprietà di Amered che stiamo facendo e più che altro è l'ultimo video che facciamo. Terza ondata. Fate mai dei festini qui dentro, dovreste organizzarli, credetemi. Dopo aver recensito le tre proprietà di Amered, sto facendo l'ultima. Te con le fruste hai veramente rotto le scatole, davvero, mi dai fastidio. Quarta ondata. Non bisogna mollare, ragazzi. Dobbiamo sopravvivere, dobbiamo combattere. Il nostro amichevole Spider-Man è il supereroe della Marvel più forte e nessun criminale l'ha mai sconfitto. Perché è il mio ampione. E ricordatevi che da un grande potere derivano grandi responsabilità. Quinta ondata. È vero, falsificare il denaro è sbagliato. Noi non vogliamo soldi falsi, vogliamo soldi veri. Abbiamo già fatto le quattro ondate, siamo vele già alla quinta. E quando ci sarà l'ondata finale? Non lo so. Quando appare quella scritta ve lo dirò. Eccola, ondata finale. Finalmente ci siamo. Noi si arriva sempre alla fase finale. Te smettila di rompermi con questo bazooka con i missili. Questo le fruste non mi lascia in pace. Gli sgherri di Amered non mi piacciono per niente. Non mollano, mi inseguono con un branco di cane in calore. Non ci siamo. Non ci siamo. Te con le fruste mi hai rotto. Sta giù. Ora questo è l'ultimo. Bene, non ne arrivano più. Caspita, il video è durato tantissimo. È meglio salutarci. Se vi è piaciuto condividetelo. Mettete un mi piace, iscrivetevi al canale o me sempre. Bene, spero che questi video con le proprietà di Amered vi siano piaciute. Ve lo fate vedere tutte. Ringraziatemi con un commento qui sotto. Voglio sapere cosa ne pensate dei video nei commenti qui sotto. E riordatevi di guardare nel mio canale Gabriosta Games centinaia e migliaia di video. E poi dovete andare subito nel canale di mio fratello Alex Costa che si chiama Costanza Films. Bene, è tutto. Ho parlato anche troppo. E riordatevi che Gabriosta e Spider-Man sono sempre insieme. Grazie a tutti.